Alto piano, fine settimana in Ortigara nell'anno del centenario dell'Associazione Nazionale Alpini per onorare i caduti della Grande Guerra e come recitano le parole scolpite sulla colonna mozza per non dimenticare. Sabato ad Asiago ammassamento alle 15, domenica invece Labaro seguito dai vessilli sezionali partirà alle 7 da Piazza Risorgimento per raggiungere il Monte Ortigara con la Santa Messa, la colonna mozza e la deposizione della corona d'alloro sul cippo austro-ungarico.